Per la giornata della memoria il comune di San Giovanni Teatino ha programmato diverse iniziative. In particolare ce n'è una originale. Sulle vetrine delle attività commerciali della città sono esposte locandine con frasi celebri e significative sulla Shoah. Già venerdì scorso alla Biblioteca Comunale c'è stata un'iniziativa, mentre il 31 gennaio alla Scuola Civica Musicale in programma l'incontro con le classi dell'Istituto Comprensivo Galilei che hanno aderito al progetto La Biblioteca della Memoria. Ascoltiamo l'assessore Simona Cinosi. È stata un'iniziativa un po' voluta, abbiamo pensato che forse organizzare un evento sarebbe stato troppo semplice perché all'evento partecipano le persone che in realtà decidono di partecipare. Il messaggio invece doveva essere un messaggio che doveva arrivare a tutta la comunità, alle persone che lo hanno vissuto, alle persone come me della mia generazione che l'hanno sentito raccontare, ma soprattutto ai bambini che forse non conoscono perché non ne sentono parlare a casa o comunque lo studiano a scuola ma non l'hanno vissuto e quindi si tende a dimenticare. Più ci si allontana da un periodo storico e probabilmente più si tende a dimenticare. Quindi il messaggio scritto su una vetrina dove una persona si ferma per ammirare un oggetto, attirato dalla bellezza della vetrina stessa e poi invece viene colpito da una frase che lo riporta a ciò che ha vissuto, ha sentito raccontare appunto oppure di cui non ha sentito parlare o che gli rimane difficile comprenderlo anche solo da un racconto e quindi portare il bambino a chiedere al genitore mamma ma perché quella frase, ma perché, cosa significa e quindi portare il genitore a raccontare, il nonno a raccontare. Questo da qui è nata l'idea. Sono tante le frasi che abbiamo scelto, tante le attività commerciali che hanno aderito a questa iniziativa che io ringrazio perché devo dire la verità sono sempre molto partecipi. Il messaggio era quello più diretto secondo me che poteva andare proprio a colpire l'intera comunità, a renderla partecipe.